Chiudiamo con il segno dei pesci, avvio di giornata ancora piuttosto faticoso, complicato poi pian pianino le cose miglioreranno. Io devo dire che questa è una serata da dedicare ai vostri amici, alle public relations, alle persone che vi fanno stare bene, quindi organizzate qualcosa di particolare o accettate un invito che vi viene fatto perché in mezzo alla gente riuscite a dare il meglio di voi stessi e soprattutto a tirare fuori quella simpatia che è innata in ogni pesciolino che si rispetti ma che voi ogni tanto tendete proprio a nascondere, a celare.